Ti do il benvenuto a Flamenco chiave in mano. Oggi parliamo della feria. Questo termine feria che sentiamo spesso nominare quando si parla di Andalusia e quindi comunque anche quando si parla di flamenco è un concetto che va capito. Essenzialmente la feria è una festa, anzi la festa con la F maiuscola. È proprio la festa per antonomasia. In ogni paese, in ogni città dell'Andalusia e anche fuori dall'Andalusia si celebrano giornate di festa totale nelle quali tutto il paese o tutta la città si dedica al divertimento, alla socializzazione, alla condivisione, alla gioia. In particolare la feria più famosa è sicuramente la feria di Siviglia che richiama una quantità spropositata di pubblico tant'è che se facciamo la prova di cercare un posto letto a Siviglia in quei giorni prima di tutto ci accorgeremo che è molto difficile trovarlo e poi vedremo anche che i prezzi sono molto più elevati rispetto al solito. Questo ci dice che i turisti in quel caso sono veramente tantissimi. Solitamente quello che succede durante una feria è che nella città o nel paese in cui la feria si svolge viene creato un recinto, appunto il recinto di feria, che viene allestito, decorato e vissuto tantissimo in quei giorni e che normalmente nel resto dell'anno viene lasciato vuoto o addirittura completamente smontato. All'interno del recinto ci sono bancarelle tantissime, ci sono anche le casette che sono proprio vere e proprie casette, magari tende, anzi solitamente tende oggigiorno, nelle quali si può entrare solo se si appartiene ad una famiglia o ad un club, a una pegna. Esistono poi delle casetas pubbliche aperte a tutti. All'interno di queste casetas che si fa? Ebbè essendo una festa andalusa gli andalusi sono goderecci al massimo quindi la prima cosa che si fa è mangiare e i piatti sono quelli tradizionali della cucina andalusa. Il tutto viene annaffiato da bibite tradizionali tra le quali sicuramente l'ottimo vino andaluso e birra soprattutto se si tratta di una feria che si svolge in una stagione calda. In realtà tutte si svolgono in una stagione calda perché in andalusia il caldo arriva piuttosto presto e se ne va piuttosto tardi nell'anno. Nelle casetas dicevo oltre a bere e mangiare si ascolta musica e in molte addirittura c'è una specie di discoteca nella quale la gente si stradiverte. È un momento che le persone del luogo aspettano per tutto l'anno per avere la scusa e l'occasione per divertirsi proprio senza limiti. Essenzialmente l'allegria viene espressa attraverso la danza. Oggi in una feria è abbastanza normale che venga messa musica di tutti i tipi. Negli ultimi anni va per la maggiore qualcosa di super allegro soprattutto il reggaeton ma la tradizione vuole che nella feria ci siano le sevillanas. Ovviamente nella feria di Siviglia ci sono, beh se non ci fossero a Siviglia ci si dovrebbe proprio preoccupare. Mentre in altre zone le sevillanas che erano il cuore della musica nella feria sono oggi molto meno presenti appunto a favore di altri generi musicali, musica leggera, canzoni o appunto musica internazionale che inviti la gente a divertirsi di più, a ballare di più. In alcune zone le sevillanas vengono considerate come una musica degli anziani o una musica che non interessa la gente giovane siccome sicuramente nella feria moltissimi sono i giovani. Magari le varie cassettes o i vari bar mettono musiche che si suppone possano piacere di più ai giovani. In particolare nella feria di Siviglia la gente si diverte tantissimo e sta sveglia mille ore al giorno, magari bevendo anche parecchio, poi alla mattina seguente dopo aver dormito un paio d'ore o forse senza nemmeno aver dormito le persone tradizionalmente bevono un intruglio meraviglioso, una cosa che si chiama ajo blanco che è una bibita tradizionale fatta di aglio, dà una scossa tremenda all'organismo, ripulisce delle tossine ingorgitate la notte precedente tramite cibo e bevande e permette alle persone di più o meno svolgere una giornata normale, salvo poi riposare un pochettino e rituffarsi nella feria la sera divertendosi ancora di più. In ogni città, in ogni paese c'è una feria ed è un momento in cui il paese o la città riconosce la propria identità tradizionale. Gli andalusi sono estremamente campanilisti e hanno ragione di esserlo, ognuno riconosce se stesso nelle tradizioni del suo luogo d'origine. Durante la feria chiunque riconosce le proprie radici nel proprio paese o nella propria città e magari ritornano nel paese anche persone che hanno solo un'origine antica, di lì magari un nonno e questo proprio per riallacciare i rapporti con la propria storia personale. Ovviamente se siamo appassionati di flamenco prima o poi ci verrà la curiosità di vedere una feria. Non aspettiamoci però di vedere flamenco in una feria perché il flamenco ha una coincidenza geografica con ciò che succede nella feria ma non è centralmente la feria. La feria non ha la finalità di godersi il flamenco o la finalità di provare le emozioni forti che vengono veicolate dal flamenco ma è un momento di festa, un momento di gioia, un momento di spensieratezza. Quindi andiamo a vedere la feria non pensando certamente di ascoltare una soleà o una siguria evidentemente. Verremo colpiti dal fatto che tutto sia molto colorato, che tutto sia molto giocoso, che tutto sia proprio finalizzato al divertimento. C'è una feria che noi stranieri possiamo vedere con grande facilità perché si svolge proprio al centro del mese di agosto che è la feria di Malaga. Quindi capita spesso che gli stranieri riescano a vederla perché magari d'estate è facile che siamo in vacanza in Spagna. Nella feria di Malaga accanto alle grandi bancarelle e tutte le casetas che hanno una programmazione anche di spettacoli proprio di intrattenimento c'è un vero e proprio Luna Park con giostre di tutti i tipi nelle quali la gente si diverte tantissimo ancora di più. Durante i giorni della feria è possibile incappare in situazioni in cui la gente anche al di fuori del recinto di feria decide di ballare, di cantare, proprio perché essendo in un clima di gioia, di divertimento e di festa, le persone sono più orientate verso il godersi la situazione anche al di fuori del luogo fisico in cui la festa si svolge. È interessante quando questo succede perché veder ballare la gente per la strada così in maniera spontanea se ti capita. È davvero divertente e ti fa capire come la dimensione della danza e della musica in Andalusia non siano una cosa dedicata solo alle persone che sanno veramente ballare o cantare o che hanno studiato ma è un fenomeno assolutamente spontaneo, tradizionale. La gioia viene espressa tantissimo attraverso il corpo in Andalusia ed è sempre una gioia molto legata al piacere, al godimento, tant'è che appunto come dicevo prima le ferie sono un'occasione ottima per godere anche delle delizie della gastronomia locale. Recarsi alla feria di Siviglia è un'occasione molto divertente anche per uno straniero. C'è solo un piccolo problema che quasi tutte le casette sono chiuse, sono private e quindi per accedervi è necessario conoscere qualcuno. Se siete stati in Andalusia sapete molto bene che fare amicizia con qualcuno non è per niente difficile quindi sarà sufficiente mettersi a chiacchierare per ricevere l'invito ad entrare in una casetta quindi non vi preoccupate se non conoscete nessuno. Certo è che dovete andare con l'animo sereno e il cuore aperto alla comunicazione e alla voglia di conoscere persone altrimenti ve ne starete per conto vostro e non capirete come mai gli andalusi amino tanto queste feste. Sono Sabina Todaro mi occupo di flamenco e di musiche danze del mondo arabo dal 1985. Dal 1990 insegno vai le flamenco a Milano e molto molto spesso mi capita che le persone mi parlino della feria come di un momento assolutamente fondamentale da vedere se studi flamenco. Logicamente noi da stranieri non abbiamo una grande competenza rispetto al flamenco non abbiamo le idee chiare non ce le abbiamo nemmeno dopo anni di studio figuriamoci quando cominciamo. Solitamente le persone hanno una grandissima confusione in testa e pensano che la prima cosa da fare sia proprio andare alla feria in particolare alla feria di Siviglia che è la più famosa. Magari poi vanno e si rendono conto che la musica del flamenco in realtà non c'è che ci sono solo le seviglianas o al massimo qualche rumba o qualche eco di flamenco magari un piccolo concerto ma il flamenco non c'è siamo proprio fuori dall'ambito del flamenco siamo in un ambito in cui il flamenco è presente un po' come un fantasma dietro le quinte per una coincidenza di tipo geografico ma il centro e il cuore musicale delle ferias è sempre quello delle seviglianas. Le seviglianas con questo ritmo ipnotico che hanno con questa ripetitività delle loro frasi musicali e assolutamente del loro ritmo si insinuano profondamente nel nostro cervello quando partecipiamo ad una feria e alla fine andiamo a letto continuando a sentire il ritmo di sevigliana e non smettiamo di sentire questo ritmo che proprio ci spinge a ballare. Questo è un fenomeno che ci può aiutare comunque a sentire la ritmicità del movimento dentro di noi e a farci crescere la voglia di muoverci. Per un andaluso non è una cosa tanto strana aver voglia di muoversi. Io che sono di Milano posso assolutamente certificare che per un milanese la voglia di muoversi deve essere coltivata perché nella nostra spontaneità è molto difficile che ci sia. L'unico movimento che sappiamo fare molto bene noi milanesi è battere le dita su una tastiera di computer o sul schermo di un telefono. Io consiglio sempre ai miei allievi di vedere una feria magari non la feria di Siviglia che è una grandissima festa che è molto organizzata quello che ci aiuta di più a capire la realtà dell'Andalusia da un punto di vista sociale da un punto di vista antropologico sono le ferie dei paesi dei paesi più piccoli nei quali proprio la partecipazione della gente a questa meravigliosa festa è grandissima perché è un evento forse l'evento più grosso che il paese vive durante il corso dell'anno quindi è un evento che non si può perdere. La gente lo aspetta lo vive con grandissima passione e bisogna capire quello l'amore per la terra l'amore per le tradizioni il rispetto per le tradizioni. Ci sono persone in Andalusia che portano avanti la musica tradizionale per esempio uno su tutti la Scorraleras de Lebrica. Sono un gruppo di donne che cantano le sevillanas tradizionali di Lebrica con un entusiasmo incredibile e con l'intenzione di portare avanti questo genere musicale e salvarlo dall'oblio perché se la musica commerciale prendesse il sopravvento nessuno dei posteri ricorderebbe questa musica tradizionale che peraltro è stata anche poco registrata in molti casi. Godersi la feria è quindi una cosa caldamente raccomandata per capire che cos'è la cultura che dà origine anche al flamenco.